Welcome to Sanejane's channel! Quest'oggi terzo video back to school Spero che questa idea vi piaccia anche perché non l'ho vista in giro qui su YouTube Questo video verrà chiamato Perfect Breakfast Perfect Tipo Leroy Vabbè Perfect Breakfast perché vi mostrerò appunto la mia idea di colazione perfetta per scuola Spero che comunque vi piaccia come idea e vi lascio al video Grazie a tutti 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 Spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima Bye Bye